Ben ritrovati dal Texas Bandit 1980, allora pagina 4 come potete vedere, ovvero capitolo 4 e siamo in, non so se è Giappone o Cina, sinceramente non lo so, comunque terra d'Oriente, quindi iniziamo questo quarto capitolo, vediamo un po' che ambientazione ci sarà, campo di riso, allora, ovviamente vogliamo stare attenti a non distruggere tanta roba, 7 treni e le stazioni giuste, che bello, partiamo già con 4 stazioni qua, partiamo già con 4 stazioni, qua dove la vai dritto, ok, così tanto che te vai, ok, 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 ovviamente non potevamo mancare i cd, i campi di riso, le sinagoghe, la cascata classica questo ponte, eh, mettiamo sti treni aggiuntivi, vediamo se siamo, se riusciamo, eh, verde, 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 aspetta, io passi qui, questa, arancione, 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 passi qui, ora, va, vai andare, va, 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 va,щее Pas oh mio Rosso, verde Su forza E' un po' E' un po' Grazie. 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 Ok, then we close egging. Ok. Ok. Ah, arancione. Aspetta. L'ho visto rosso. Oh, dai. Vabbè, ritorna. Ritorna ben qua. Eeeh. L'arancione e il rosso faccio sempre confusione. Colpa mia. Vabbè, vabbè. weiterenuna minaccia. Ok, ora. Vabbè, ho私 momentos reagito, av dz arrest Head, D'accordo. Oh, d'accordo. Vabbè, ho detto un 순간. Ah, ma tutto più veloce per la ronra, eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ultimo treno. Ah, qua non abbiamo sbloccato gli altri. Eh, siamo arrivati a 5. Ah, per un valore. Io volevo stare sotto i 30.000. Vabbè che... Vabbè. Allora, secondo. Siamo su una nave, sembra dall'indizio. Vediamo. Allora. Vediamo un po'. Malo. C'è posti più piccoli da fare una roba del genere, no? Allora... Allora. Allora. Viola. Facciamo così, allora. Allora. La vedo ostica sta qua. Molto ostica. Allora. 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 Ma questa anche... vediamo dove vuole andare sto qua al blu. Allora. 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 guard Fucking. Beh. Allora. Eh sì? facendo così si perde una marea di tempo, intanto arriva il treno, ciao scontro, scontro frontale dai dai Ah, c'è la ragione, guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guard ho visto? oh no, non ci sto dentro a me ne vanno tutti a giù facciamo che la tratta più semplice sia questa qua, il giallo no, neanche sto qua verde, diretto in questo caso volessi andare al giallo, sarebbe un casino provare a farli fare il giro così in realtà potrei fare anche adesso adesso sto mettendo il nuovo scorciatoio, bene beh, guarda da me, guarda dall'altra, ciao aspetta se ti faccio lo svincolo qua, se sono capace ok ok e qui stiamo fallendo tutti i due vetri perché è un casino a sto livello però adesso sto, sto capito un po' meglio da farsi ok 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 abbiamo finito ahahah dopo sta battaglia eh sì ah no ci manca ancora questo eh i treni non li posso chiamare qua anche di soldi eh cioè 19.000 eh non è come ho fatto no vedo questo treno che ogni tanto ti spezza il ritmo poi gli obiettivi poi gli obiettivi ovviamente eh vabbè vabbè allora eh terzo livello siamo su fuji ci sarebbe vediamo ok ok eh 100 più ecco ecco cioè le partenze così un po' più no questa rompa lì sta questa 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 e questo con questa un po' più ecco 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 Sì Sì Ah, c'è già 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 qua C'è già 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 qua Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, giallo... Costruisci 100 più binari... 100 più caselle... La rancione... La rancione... La rancione... La rancione... La rancione... Ok, 100 più binari... La rancione... 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 c'è picchia, che lavoro che lavoro che lavoro beh, abbiamo evitato l'incidente, è una cosa buona molto buona bello, bello anche questo, all'inizio è ostico perché ci sono queste due stazioni che proprio, sono un po' più vicinissime bene ok, almeno qua, doppio timbro bene, allora gli altri vi faremo alla prossima come da soltanto faccio sempre a gruppi di tre ciao a tutti e spero che il giochino sia di vostro gradimento ciao